Ok, allora è arrivata Fede e questo è il suo regalo, lei non lo sa E dentro c'è pure una lettera Quindi niente, spero lei piaccia È per te, aspetta, aspetta però Aspetta che qua mi devo prendere due lettere che sono per Sofia e per Carli È per te, dentro c'è la lettera Però sì, dopo leggila, leggila dopo sì perché è lunghina No No È quello lì che avevo Ecco, brava Buono È quello lì che avevi An esatto, sì Buono Buono Perché tu non vuoi niente te È per quello Prego, prego Comunque sono le 8, siamo già qui E in realtà il ritrovo era le 8 e 15 però vabbè meglio Io no 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 Io ho sentito Carli che diceva 8, 8 e un quarto Poi probabilmente era 8 e un quarto però ho detto anche 8 Io non me lo sono sognata La pizza È il compleanno di Carli ma ci sono le sue amiche e io mi vergogno Mi vergogno Quindi niente ciao E vabbè vi farò vedere la pizza e basta No ok raga alla fine tanto sono in fondo E vabbè sono in fondo quindi nessuno mi nota Ecco È per il tuo compleanno Mi ero dimenticata di dartela Mi hai sentito Sembra un po' Non aprirlo adesso Non leggerlo adesso Leggila Leggila Di chi è iscritto Se l'hai iscritta oggi L'ho scritta oggi L'ho scritta oggi Prego Prego Non è così lunga in realtà Però vabbè Non è così lunga in realtà L'ho scritto E si fa così Ma se vuoi fare così Dica Eci H H MD Vediamo ragazzi chi escerà Vediamo come si chiama A B C B E F G Anche tu Tocca Raga Sono finito di mangiare Sono strapiena Strapiena La pizza era piccante proprio Piccantemi Auguri a te Tanti auguri A Ternotta Tanti auguri A te Guarda E' stata lei E' stata lei No Intrusive touch Adesso fai un discorso Allora Allora Bravo E E' 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 Brava E' 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 non è così male va bene avete parlato come si fa infatti ma non è così male posso confessare una cosa non è poi così male io mi aspettavo chissà cosa ma sincero io lo indosserei per Halloween non è così male stavo peggio tipo un cappello un cappello c'è il due dito cosa che s'adori? da chi? di Isa ma non è strusso cosa sia ma che bello qua lo zoom ma che bello lo zoom qua guarda guarda oddio oddio guarda cos'è? sono la città lo sono? vabbè quanto cos'è? è un gioco tramele inside joke non sapevo quello come il nostro guarda guarda che bello addio che bello guarda amore il nostro regalo vabbè non fate per il mio no no ho paura che non le piaccia c'è magari il mio ricordo il mio ricordo è venuto aspetta va bene? va bene è partito vai insolano grazie prego ma è duro? allora non è quello che pensi stai attenta che è fragile no oddio occhio che è morto ma è tutta una spiegazione esatto tutta una spiegazione è il suo cane? prego prego va bene carli devi andare lì bellissimo sei già lì oddio oddio sei lì l'ho già lì infatti ho iniziato a leggere è già lì anche modesta poterà da spiegare eh cos'è quello? piastra schizzo non si scrive così non si scrive così no no tutto ci scrive trattivo così posso leggere questa frase? sì ieri è passato in tv perchè proprio questa frase che hai letto? è la tua frase ahah no ma bippa dai nel vlog non mi ricordo più cosa ho scritto io eh vabbè guardami che in quel momento erano parole sincere erano parole sincere sì non va bene spero che sia da fatto a me dai ci sta per scaricare forse scusami che degli occhi no 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 bella 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 ciao vlog questo è il biglietto che ho per Carli leggere dopo a casa da sola grazie figo mi piace molto sì arriva Carli che ci abbraccia sto avendo una ardiente lì che sta adbacendo tutti hai vlog che siamo noi con chi? in vuun dai 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 che arriva Carli che ci abbraccia non ci siamo beginningi è passata parcia da sola Grazie a tutti.